In Hindi l'alfabeto o abugida, cioè l'alfabeto sillabico, è derivato dal sanscrito e si chiama Devnagri. Questo alfabeto contiene 11 vocali, almeno in Hindi ne sono usate 11. Tralascio questi due ultimi suoni e quindi prendo le 11 vocali e le posso suddividere ulteriormente in vocali semplici, fino a qui, e dittonghi. Parlo di dittonghi in Hindi in quanto si distinguono dalle vocali semplici perché sono sempre lunghi. Infatti in Hindi non esiste il concetto di accento come in altre lingue come l'italiano, ma più che altro si parla di quantità, quindi si fa attenzione alla lunghezza di una vocale in una sillaba. E quindi la vocale lunga va sempre accentuata, va sempre enfatizzata rispetto alla breve. Le vocali semplici invece hanno tutta una versione breve e una lunga. La prima è A, quindi A breve, A lunga, A A, poi abbiamo I e I lunga, I, I, U breve e U lunga, U, U, e infine Ri. Ri è una vocale del sanscrito che si trova solo in parole sanscrete e in indice solo nella versione breve. Poi abbiamo i dittonghi, E che è come la nostra E italiana chiusa, E che è come la nostra E italiana aperta, però sono sempre lunghi. Quindi quindi E, 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 Poi abbiamo O e O come una O chiusa, lunga e una O aperta italiana, lunga. Quindi abbiamo, ricapitoliamo, A, A, I, I, U, U, Ri, E, E, O, O. Anche le vocali, che in Hindi sono detti Swar, hanno un ordine che rispetta la logica della fonetica. Quindi abbiamo prima la vocale velare A, poi la vocale palatale I e poi la vocale labiale U. E quindi andiamo da dietro nell'apparato fonatorio fino a più avanti, dove i suoni sono articolati sempre più in avanti nella bocca. Questi simboli indicano come sono scritte le vocali quando sono indipendenti, quindi quando appaiono all'inizio della parola o subito dopo un'altra vocale in Hindi. Infatti, quando una vocale viene subito dopo una consonante, essendo appunto un alfabeto sillabico, deve essere scritta in un altro modo con altri simboli che si chiamano matra e che vedremo più avanti. Queste sono le vocali come sono scritte nella forma indipendente, quindi, e voglio mostrarvi come sono scritte nella scrittura a mano. Queste sono le vocali come sono scrittura a mano. Queste sono le vocali come sono scritte nella scrittura a mano. I suoni consonantici sono vere e proprie sillabe, infatti, in ogni consonante è contenuta una a breve inerente, cosiddetta inerente perché non viene scritta, sempre contenuta dentro al suono. Le consonanti, i suoni consonantici in Hindi si possono suddividere innanzitutto in cinque categorie grandi, fonetiche, poi abbiamo in seguito le semivocali e le sibilanti con l'aspirata. La prima categoria che si può leggere sia in orizzontale che in verticale, infatti, in orizzontale abbiamo le diverse categorie fonetiche. In questo caso la prima riga corrisponde ai suoni gutturali o velari, cosiddetti, e che si suddividono in verticale a loro volta in suono sordo, suono sordo aspirato, suono sonoro, cosiddetto sonoro perché quando lo pronunciate, se vi toccate la gola sentite che ha una vibrazione più forte rispetto al suono sordo, sonora aspirata e infine di categoria la nasale. Anche noi, nella nostra lingua italiana, abbiamo diversi suoni nasali, ma li scriviamo con meno simboli perché automaticamente nella pronuncia si pronunciano corretti, quindi non c'è bisogno di sapere a quale categorie appartengono. Però questo alfabeto Deonagri, essendo sanscrito, quindi molto attento agli aspetti teorici e fonetici, amava anche distinguere le diverse nasali. Quindi ogni categoria ha una nasale, ma le uniche nasali che si trovano da sole, quindi che sono pronunciate singolarmente, sono quella retroflessa, quella dentale e quella labiale. Queste prime due quasi non si trovano mai da sole, quindi sono sempre precedenti un'altra consonante della stessa categoria, quindi si pronunciano automaticamente corrette. Venendo ai suoni velari, quindi, noi abbiamo è lo stesso suono che noi troviamo prima di una consonante gutturale o velare, come si vuole dire. Quindi, per esempio, in automaticamente questa è velare. Poi abbiamo i palatali, quindi la sorda, c, sorda aspirata, c, sonora, j, sonora aspirata, c, e poi la nasale, n, ricapitolando, c, c, j, c, n, poi abbiamo i suoni retroflessi, ovvero quelli articolati toccando con la lingua quel monticello del palato, che è prima dell'arcata dentale e quindi con la lingua un pochino indietro, un pochino retroflessa, quindi, e definiti quindi secondo la fonetica retroflessi. Abbiamo da, poi aspirata, ta, da, aspirata, da, nasale, ara, ara, ta, ta, da, da, ara, dentali quindi, le normalissime dentali che abbiamo anche in italiano, però con le corrispondenti aspirate ta, ta, da, da, na delle labiali la sorda è b sorda aspirata b, sonora b, sonora aspirata b, nasale, ma ricapitolando b, 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 ma infine abbiamo le semivocelle cioè quei suoni che hanno delle corrispondenti in alcuni suoni vocalici e che sono in Hindi è una via di mezzo tra una va e una va, quindi va. Infine abbiamo le similanti, quella palatale sh e quella retroflessa sh che si trova solo in parole sanscrite e che comunque nel Hindi standard vengono ormai pronunciate più o meno allo stesso modo, poi la similante dentale s che è come la nostra sorda mi raccomando perché la sonora s ha un altro simbolo che poi vedremo. E infine la aspirata ha, quindi ricapitolando abbiamo un altro simbolo. Cacca, gha, gha, nga. Cha, cha, ja, cha, nga. Ta, tha, da, dha, nga. Ta, tha, da, dha, nga. Pa, tha, ba, bha, ma. Ya, ra, la, va. Sh, sha, sa, ha. Va, 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 vora. Grazie a tutti. 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 Esiste anche un altro simbolo che cambia con il diacritico e fa sempre parte dei suoni dell'urdo, quindi di parole derivate dall'arabo e dal persiano. In questo caso è la G del devanagri con il puntino e si pronuncerebbe G. G.